L'olio di Argan può costare fino a 300 dollari al litro, ed è l'olio commestibile più costoso al mondo. Ma fino a soli 20 anni fa, la produzione di olio di Argan era limitata a remoti villaggi in Marocco, con le vendite internazionali praticamente inesistenti. Da allora, però, alcune cooperative a conduzione femminile hanno trasformato la produzione in un'industria da miliardi di dollari. Ma perché ha improvvisamente guadagnato tale popolarità, e cosa lo rende così costoso? L'olio di Argan è utilizzato prevalentemente nella cosmetica di lusso e nella cucina marocchina. Proviene dal seme dell'albero di Argan, originario solo della stretta striscia semidesertica tra la costa atlantica del Marocco e le montagne dell'Atlante. La popolazione amazi del Nord Africa utilizza i semi di Argan da secoli, e i metodi per creare questo costoso olio sono rimasti gli stessi. E' un primo, l'incente. Tornigato Gesù no vabbè, come andse agite i fiechi, come andse agite la friscia di Cargan. Come andse agite l'argan, come andse agite le nugge, come andse agite gli uzzini. Per quale è il primo, è poco l'attro, come andse agite la friscia di marocchina, non può essere per solo usci... Come andse agite la friscia allanto, come andse esverso in Egyptian, o come andse agite gli uccuder, come andse agite la friscia alla friscia. So l'attrore, come andse agite gli uccidini, come andse eserci, come andse agite di un iserci striscia. una volta raccolti i frutti vengono essiccati al sole poi sbucciati e spolpati a mano per rimuovere gli strati di polpa più esterni la noce di argan che rimane deve quindi essere aperta per recuperare il noccio lo ricco di olio all'interno. La fase successiva è la macinazione che spesso viene eseguita anche a mano. La macinazione che si tratta di un po' di 5 minuti, si tratta di un po' di 5 minuti di acquisto. la polpa residua si vende come manjime per animali in particolare per le capre che sono storicamente legate all'albero di Argan in alcune zone è tradizione permettere alle capre di arrampicarsi liberamente sugli alberi per cibarsi dei frutti i noccioli vengono quindi raccolti dai loro escrementi risparmiando così il faticoso lavoro di aprire le noci a mano attualmente però in molti boschi di Argan questo peculiare spettacolo è diventato un'attrazione turistica le donne amazzi che non potevano uscire di casa senza il permesso di un uomo fino al 1956 producevano olio di Argan principalmente per scopi culinari con metodi tramandati di generazione in generazione quest'olio artigianale veniva venduto occasionalmente per strada in bottiglie riciclate per soli 3 dollari al litro e quindi si è aperto che le donne che preparavano l'uomo artigianale avevano un pezzo veramente molto dolce e non avevano nulla ma non avevano alcune prove scientifiche Zubhida Sharrouf ha studiato l'albero di Argan per il suo dottorato di ricerca alla fine degli anni 80 quando la specie era in pericoloso declino dopo aver condotto alcuni studi per investigare gli effetti benefici idratanti dell'olio di Argan su cute e capelli Sharrouf ebbe l'idea di trasformare un problema ambientale in una soluzione per l'economia l'obiettivo non era di guardare i risultati sulle tiroi all'università ma di andare sul terreno, organizzare la filiera organizzare la filiera, queste donne che non erano organizzate di tutto che produisero dell'uomo artigianale di una forma tradizionale e quindi c'era molto difficile, c'era qualcosa di nuovo e non sapeva cosa sia una cooperativa e poi non sono mai fuori da loro e quindi abbiamo cominciato con queste 16 donne e dopo che le altre hanno visto ciò che ci ha dato per questa prima cooperativa quindi c'era molto, molto di donne che sono venute a noi vedere che vogliono anche organizzare una cooperativa e approfittare della commercializzazione dell'olio di Argan Come previsto, l'aumento della popolarità dell'olio di Argan portò non solo profitti nella regione ma anche vita nuova in un intero ecosistema Il ritrovato rispetto per gli alberi di Argan ha quindi ridato stabilità alla specie e a loro volta, anche la fauna e le comunità circostanti ne hanno beneficiato L'albero di Argan, conosciuto localmente come l'albero della vita fornisce cibo e protezione dalla desertificazione e le sue radici profonde prevengono l'erosione del suolo consentendo all'erba da pascolo per il bestiame di crescere Si stima che fino al 90% dell'economia di questa regione giri attorno all'albero di Argan In una sola generazione, il mercato internazionale dell'olio di Argan è passato da soli 200 litri, a 4.000 tonnellate nel 2019 e il governo ambisce a vendere oltre 10.000 tonnellate entro il 2025 Per facilitare quest'aumento, l'area per la produzione è stata espansa di oltre 160 km a sud di Esauira ed è in piano anche un allargamento a nord Ma i prodotti a base di olio di Argan sono spesso adulterati E sia l'olio cosmetico che quello da cucina sono spesso etichettati come puri Nonostante una non ben precisata percentuale d'olio di nocciolo di Argania sia mischiata con altri composti chimici Inoltre, dell'olio economico estratto meccanicamente ha iniziato a circolare per soli 22 dollari al litro minacciando così la stabilità delle cooperative locali Tuttavia, alcuni colossi della cosmetica come L'Oreal si sono impegnati nel commercio equo per garantire la stabilità del loro olio di Argan e la conservazione della biodiversità delle foreste Con l'aiuto delle cooperative, le tradizioni popolari delle donne amazzi hanno creato un'industria in forte espansione Ma anche se questo gli ha garantito una certa indipendenza finanziaria in una società dominata dagli uomini le donne guadagnano ancora meno di 220 dollari al mese al di sotto del salario minimo nazionale raccomandato dal governo marocchino Con l'industria dell'olio di Argani in continua crescita resta da vedere se crescerà anche la prosperità delle donne amazzi Grazie 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 Grazie.